Castagna Tartufo e Fungo Porcino, Sindaco, tutto questo nel fine settimana a Volturara? Sì, tutto questo organizzato dal Comune insieme alla Proloco è la festa di altri tre grandi prodotti d'eccellenza. Volturara ormai è conosciuto come il paese del fagiolo quarantino presido da Slow Food, ma in realtà un grande prodotto d'eccellenza è la castagna. I territori castanicoli di Volturara appunto rientrano nel comprensorio IGP della Castagna di Montella. Quindi un grande appuntamento e grande attesa e diciamo dalle prenotazioni sono prenotati oltre 200 camper e ordicini di pullman. Sarà anche questo un grande successo per il paese. Proprio ieri abbiamo sottoscritto con il CAI una convenzione con la quale la via ferrata, l'unica certificata in Campania, viene inserita nel cadastro nazionale. Ecco tutto questo, l'area picnic, l'area camper, le vie ferrate, le vie riempicate, fanno una meta ormai da visitare. E stiamo ottenendo i giusti successi. Infatti in questi tre giorni sarà possibile anche effettuare visite guidate? Sì, dopo il grande successo della settimana scorsa con oltre mille visitatori delle giornate FAIR saranno riaperti tutti i siti. Quindi la Bocca del Dragone con la sua importanza, il suo mistero, la Chiesa Madre, le vie ferrate, le vie di arrampicata, il museo etnografico e tant'altro. Sarà possibile acquistare prodotti di eccellenza e degustarli. Ci saranno in istante da parte di tutti i ristoratori di Voltural. Quindi cucina di alta qualità. Vi aspettiamo tutti, vi aspetta l'ospitalità dei Volturalesi. A bene di sabato e domenica. Grazie. 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 Grazie.